Irina Tirdea, Kate Shepard, suffraggiatà. C'era un tempo in cui gli uomini credevano che le donne fossero al mondo solo per servirle. Pensavano che le donne davvero facessero solo questo, cucinare e pulire, badare ai bambini e non preoccuparsi d'altro. Le donne dovevano indossare vestiti femminili, dovevano avere abiti lunghi con corsetti stretti. Il fatto che così vestite facessero fatica a muoversi e a respirare non aveva importanza, contava solo che fossero carine. Erano molte le cose che le donne non dovevano fare. Avere un lavoro è impossibile, fare sport è impossibile, governare il paese è ancora più impossibile. Le donne non potevano nemmeno votare. Ma Kate pensava che le donne davvero avessero la stessa libertà degli uomini. La libertà di dire quello che pensavano, di votare per chi volevano e di indossare vestiti femminili.